Si gioca all'Ozzini di Cremona, uno stadio caro a Mondonico e a Chiesa per i loro trascorsi. Sono di fronte Atalanta e Parma. Comincia subito a sprombattuto l'Atalanta che sfodera un gran pressing ma fin dall'inizio si vede che le conclusioni non sono delle più felici. Come d'altronde testimonia con la sua classica mimica Mondonico. Solo in contropiede il Parma, il cross di Stanic, mette in qualche apprensione il portiere Pinato. Ma poi è tutto Atalanta, una serie lunga di calci d'angolo, un pressing asfissiante a centrocampo, il Parma in difficoltà Buffon sollecitato a ripetuti interventi. È tutto Atalanta il primo tempo, ancora i Bergamaschi sul traversone c'è una buona possibilità per Cappioli, ma è bravissimo Buffon a rifugiarsi in calcio d'angolo. Ancora l'Atalanta in avanti, la conclusione violenta ma centrale di Englaro, lo sloveno tra i migliori. Deve uscire Dino Baggio nelle file del Parma ed è sostituito da Giunti. Lancio di Chiesa per lo scatto di Crespo, attento Pinato, il portiere dell'Atalanta a uscire fino sulla tre quarti. Ancora Bergamaschi in avanti, incoraggiati dai propri sostenitori. La conclusione violenta è ancora di Englaro e con un intervento in tre tempi ancora si salva Buffon. Palla per Caccia, possibilità di tiro, ben arrivo, si ricluge in calcio d'angolo. L'ultima opportunità del primo tempo è ancora per l'Atalanta con lo stesso Caccia che viene a trovarsi nella possibilità di effettuare il tiro a rete, sia pure la posizione centrata, mira leggermente alta. Si va al riposo sullo 0-0. Parma deludente nel primo tempo. In avvio di ripresa Carletto Ancelotti tenta di spronare i suoi. L'Atalanta naturalmente ha speso molto, il suo ritmo è un po' sceso e difatti nelle battute iniziali della ripresa e il Parma sembra affacciarsi in avanti con una certa pericolosità. Attento comunque il portiere Pinato. Ci prova anche Turam con il suo caratteristico stile, taglia tutto il campo, vedete la sua falcata impressionante, chiede triangolo a compagni, chiude bene carriera comunque per l'Atalanta. Esce Englaro sostituito da Mirkovic, stanchissimo Englaro. Esce anche Mussi ferito al capo al suo posto a Polloni. L'Atalanta non spinge più come nel primo tempo, ma è sempre abbastanza insidiosa in avanti. Qui la conclusione di Mirkovic con Buffon che si rifugia in angolo. Parma leggermente più in traprendente, va anche in gol con Stanis, ma dopo il netto fallo di Crespo, gol realizzato a gioco fermo. Ancora il Parma con un buon pallone per Crespo che mira sul paletto opposto, ma il pallone termina fuori. Ancora l'Atalanta con grande slancio in avanti, non c'è molta lucidità, la conclusione di Lucarelli è alta. Subito dopo Mondonico chiama fuori Lucarelli, al suo posto entra in campo Sgro, mentre nel Parma Crippa rileva Stanis. Ancora è Chiesa in piena area di rigore, sinistro leggermente alto, ma una brutta partita si chiude con un brutto episodio. Questa è entrata davvero fallosa di Piacentini ai danni di Sensini con conseguente sacrosanta ammunizione. Finisce 0-0, un risultato che serve poco sia all'Atalanta sia al Parma per una classifica che ora assume questa veste.